Mi spiega qual è la differenza tra il laser all'alessandrite e la luce pulsata? Infatti oggi il mercato offre diversi tipi di sistemi laser per repilazione, però bisogna fare chiarezza proprio fra i due più conosciuti. La luce pulsata, che è una strumentazione sicuramente valida, ma di utilizzo estetico, tant'è che possiamo trovare l'apparecchiatura anche dalla nostra estetista di fiducia, ma chiaramente è un trattamento più blando poiché depotenziato, e il laser all'alessandrite, che invece è un laser di utilizzo assolutamente medico. Lo potrà trovare soltanto in strutture sanitarie, con operatori specializzati nell'utilizzo di un laser di classe 4. La differenza poi rispetto all'efficacia è importante ed è data da due differenze tecniche molto importanti. In primis la selettività termocinetica, un brevetto di cui gode soltanto il laser all'alessandrite e che nel 1997 diede modo a questo sistema di essere approvato dalla Food and Drug Administration. Ci offre non soltanto garanzia di risultato, ma soprattutto di sicurezza. Le mostro. Questo grafico rappresenta bene qual è il principio di selettività termocinetica. La luce pulsata infrange tutta la sua energia sullo strato dermico, dove c'è una maggiore concentrazione di melanina. E soltanto una minima parte dell'energia arriva al bulbo pilifero. Pertanto i peli a questa profondità non potranno essere distrutti. Un laser all'alessandrite, grazie alla selettività termocinetica, surriscalda soltanto leggermente lo strato dermico e concentra poi tutta l'energia nel bulbo pilifero, che se colpito in fase anagen viene distrutto definitivamente. Sostanzialmente, quante sedute servono per la risoluzione del problema? In media, il numero di sedute per una risoluzione ottimale si aggira attorno alle 6 applicazioni. Questo non vale se la zona da trattare è una zona affetta da ersutismo, ovvero quelle zone, soprattutto nella donna, in cui i peli non dovrebbero esserci, il viso, il platisma, l'infraseno, le areole o anche la schiena e il fondoschiena. In questo caso, poiché potrebbe essere legata alla presenza abnorme di pelure, ad una condizione patologica, oltre al trattamento con il laser all'alessandrite, offriamo un supporto medico fatto da uno staff di specialisti in endocrinologia e ginecologia. In quel caso, il numero di sedute potrebbe aumentare e, nei casi più gravi, aver bisogno anche di 3 o 4 sedute l'anno di mantenimento. È possibile trattare la pella abbronzata anche d'estate? Adesso sì. Negli ultimi anni la tecnologia del laser all'alessandrite si è ulteriormente evoluta. La selettività è diventata maggiore e ci permette di trattare anche le pelli di fototipo 4 o abbronzate.